Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Questo pomeriggio, poco dopo le 15, è stato necessario fare evacuare l'ufficio pensioni dell'Inps a causa del forte odore di fumo che proveniva dall'impianto Luci. Si pensava però si trattasse di un incendio. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che in breve tempo la situazione tornasse alla normalità. Si è svolto nel pomeriggio l'incontro fra l'amministrazione e il Comitato di San Nicola che si oppone al progetto di housing sociale. Sentiamo. Questo pomeriggio il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore all'urbanistica del Comune di Oristano Gianfranco Sedda insieme al presidente del Consiglio Comunale Antonio Franceschi e al dirigente tecnico Giuseppe Pinna hanno incontrato una delegazione del Comitato Spontaneo che si oppone al progetto di housing sociale che la società Campus intende realizzare nel quartiere di San Nicola. Le ragioni del Comitato sono state illustrate dalla portavoce Cristina Denti, secondo cui in questo intervento si ravvisano elementi che vanno a incidere troppo pesantemente sul quartiere, scontrandosi in parte con regolamento urbanistico che non prevede un intervento di housing sociale in questa zona, come ha detto. Un numero così alto di appartenenti comporterebbe inoltre un grosso aumento del traffico nel quartiere, ha aggiunto la portavoce. Chiediamo solo che si realizzi un insediamento meno impattante sul quartiere, ha dichiarato Luigi Niedda, un altro componente del Comitato. Non abbiamo strumenti per opporci alla realizzazione dell'intervento di un privato se questo rientra nei parametri previsti dalle normative e dal piano urbanistico comunale, sono le parole del sindaco Luzzo e dell'assessore Sedda, i quali hanno però spiegato che la società avrebbe la facoltà di realizzare un intervento di 30.000 metri cubi su un'area di 6.000 metri quadrati, che risulterebbe molto più impattante di quello che si sta discutendo e che prevede sì una cubatura di 39.000 metri cubi, ma su una superficie più ampia di 10.000 metri quadrati. In cambio dell'aumento di cubatura, la Campas cederebbe al Comune quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica e realizzerebbe altre opere a beneficio del quartiere. Relativamente alla legittimità urbanistica della delibera, sollevato dal Comitato, il sindaco ha precisato che, per maggiore trasparenza e chiarezza, la proposta di delibera, quando tornerà all'esame del Consiglio Comunale, sarà accompagnata da una variante al PUC. Invitiamo il Comitato a formulare un'eventuale proposta che sia migliorativa e accettabile da chi dovrà realizzare l'intervento, ha detto il sindaco Luzzo, rimandando tutti a un nuovo incontro, questa volta aperto anche alla Commissione urbanistica, come chiesto dal Comitato. Per la politica sarda, quella odierna, rischia di essere la giornata più lunga e tormentata. Vediamo il servizio. Abbiamo già riferito che per la politica sarda, quella odierna, è la giornata più lunga e tormentata dopo il voto del 24 febbraio scorso che al centro-destra aveva assegnato un'ampia maggioranza di voti e di seggi in Consiglio regionale. Oggi, giovedì 4 aprile, giornata di apertura ufficiale della sedicesima legislatura con l'insediamento dell'Assemblea, convalida degli eletti, il giuramento, la comunicazione del Presidente sulla composizione della Giunta, l'elezione del Presidente del Consiglio. A metà mattina, un comunicato dell'Ufficio Stampa della Regione ha annunciato un elenco di cinque assessori, Giuseppe Fasolino, Forza Italia, alla programmazione, Gianni Lampis, Fratelli d'Italia, all'ambiente, Giovanni Chessa, sardista, turismo, artigianato e commercio, Alessandra Zedda, Forza Italia, lavoro e formazione professionale, Mario Niedu Lega Salvini, assessore alla sanità. Le altre sette deleghe sono state mantenute dal Presidente che ha avviato un ulteriore giro di consultazioni tra i partiti e disposto la riconvocazione del Consiglio per martedì prossimo, anche in relazione al fatto che l'Assemblea non ha eletto il suo Presidente e con questo lasciando nelle trattative un ulteriore fronte aperto. Intanto la diaspora in corso ha portato i riformatori a farsi da parte e ad attendere lo sviluppo degli eventi con un ulteriore ostacolo da superare, quello di Forza Italia che insiste perché Antonello Peru venga eletto Presidente del Consiglio regionale nonostante sia sotto inchiesta per concussione aggravata. Domenica 7 aprile, a partire dalle ore 9, gli orti urbani di Torangius in via Anglona ospiteranno una giornata ecologica dedicata all'ambiente e alla socializzazione. La manifestazione è aperta oltre che agli ortolani assegnatari anche a tutti i cittadini che vorranno aderire. E si parlerà del futuro dei giovani medici sardi in un convegno organizzato dall'Ordine dei Medici di Oristano per affrontare il problema della carenza di personale in contrasto col blocco della formazione degli specializzanti. Sentiamo. Già da qualche anno la sanità italiana sta vivendo una situazione di grave difficoltà a causa dei continui tagli cui è stata sottoposta. Ma se da un lato vi sono pesanti carenze degli organici negli ospedali e nel territorio, dall'altro un consistente numero di giovani medici si trova in un limbo di incertezze dovute all'inoccupazione e al blocco della formazione. L'Ordine dei Medici di Oristano lancia l'allarme sulle numerose criticità esistenti. Dall'imbuto formativo, quello dei cosiddetti camici grigi che non riescono ad accedere alla formazione post laurea al difficile processo di accreditamento delle scuole alla qualità della formazione stessa. Ci troviamo nella paradossale condizione di non avere risorse umane sufficienti non solo per completare le dotazioni organiche carenti, dicono, ma anche per sostituire i medici che andranno in pensione nei prossimi anni. In questi giorni si parla addirittura della possibilità che alcune regioni richiamino medici pensionati o chiamino a lavorare medici dall'estero. Al fine di affrontare le suddette problematiche e ipotizzare passi concreti che aiutino ad affrontare quella che sta diventando una vera e propria emergenza, sabato 6 aprile si terrà presso l'hotel Mistral 2 di Oristano alle ore 10, un incontro tra i rappresentanti degli Ordini dei Medici della Sardegna e i giovani medici rientrati nel cosiddetto imbuto formativo. Pur consapevoli che l'argomento sia all'ordine del giorno in ambito nazionale, dichiara il dottor Antonio Sulis, presidente dell'Ordine dei Medici di Oristano, riteniamo che le problematiche specifiche presenti in Sardegna vadano affrontate con un'attenzione particolare. Il 6 aprile 2019 si celebrerà la seconda giornata nazionale del fine vita. A Oristano l'incontro si svolgerà presso la sala Antonio Maria Carta dell'Ordine dei Medici. Si approfondiranno i problemi clinici, etici e di tipo medico-legale e organizzativi che scaturiscono dalla necessità di assistenza di questi pazienti e delle loro famiglie. I cavalieri e tutti i protagonisti della Sardegna saranno impegnati in un'iniziativa di solidarietà che riguarda la donazione del sangue. Sentiamo. Oggi donare il sangue è un'attività solidaristica che permette di aiutare concretamente un'altra persona. L'atto donativo è un gesto totalmente gratuito ed è questo che deve tendere a stimolare maggiormente l'individuo che si presta al lato di generosità. Domenica 7 aprile la Fondazione Zasartiglia insieme ai cavalieri, tamburini e trombetieri organizza una raccolta di sangue presso l'autoemoteca che stazionerà in piazza dell'onora a Oristano dalle 8 alle 12. L'obiettivo è raccogliere sangue per far fronte alla crescente domanda aiutando chi come talassemici è costretto a frequenti trasfusioni. L'iniziativa parte dalla Fondazione e dall'Associazione Cavalieri con la collaborazione del Comune di Oristano, della ASL e dell'Avis. Non è la prima volta che i fantini si impegnano nella donazione e iniziative di solidarietà. Per donare il sangue è sufficiente essere maggiorenni e in buona salute. La donazione è semplice e sicura. Il prelievo è eseguito da personale specializzato, si utilizzano materiali sterili e monouso e avviene presso apposite strutture. Il coordinamento regionale dei punti locali Eurodesk organizza il seminario di informazione e formazione in programma l'11 aprile a partire dalle 8.45 nell'auditorium dell'Hospitalix Santi Antoni di Oristano. L'obiettivo è quello di favorire la mobilità per l'apprendimento transnazionale dei giovani fornendo ai partecipanti le opportunità, le modalità e gli strumenti per accedere ai programmi comunitari. Le squadre di Abanoa al lavoro per riparare un guasto lungo l'acquedotto di Bosa. Vediamo. A lavoro le squadre di Abanoa per la riparazione di un guasto lungo l'acquedotto di Bosa nel tratto tra il partitore di Monte Contra e il serbatoio di Bosa al servizio del centro abitato. L'erogazione all'utenza è per adesso garantita dalle scorte presenti nelle vasche d'accumulo. Il tratto interessato dalla rottura sarà interessato da un intervento di rifacimento integrale che complessivamente riguarderà 14 km di condotte. Per quanto riguarda Santa Caterina, Bosa Marina, l'ospedale e in generale tutte le utenze sull'altra sponta del Temo, i tecnici di Abanoa hanno effettuato manovre in rete che consentono di garantire il servizio. Il gestore unico del servizio integrato sta investendo sull'acquedotto circa 5 milioni di euro stanziati in parte dalla regione Sardegna tramite il mutuo destinato alle infrastrutture e in parte con i fondi da tariffa del bilancio del gestore. mercoledì 10 aprile alle ore 18 nella sala del centro servizi culturali Unla di Oristano presentazione del libro di Ottavio Olita dal titolo Il costo della verità prefazione di Don Luigi Ciotti dialogano con l'autore Pino Tilocca e Marcello Marras le letture saranno a cura di Paola Aracu e gli interventi musicali saranno invece a cura di Davide Magia. Si disputerà sabato 6 aprile la finale del campionato sardo di quarta categoria di calcio a 7 a cui partecipano associazioni dilettantistiche speciali che operano con i centri di salute mentale. Sentiamo. È ormai confermato che l'attività sportiva ha un grande potere educativo e formativo e consigliato per tutte le età come mezzo di prevenzione cura e riabilitazione ma al di là di tutto lo sport è superamento di barriere come tale è entrato a far parte di progetti terapeutico-riabilitazione e della reintegrazione sociale di persone con disagio psichico e mentale. Sabato 6 aprile alle ore 9 nei campi di San Rudia di Oristano si terrà la finale del campionato sardo di quarta categoria di calcio a 7 a cui parteciperanno associazioni dilettantistiche special che operano con i centri di salute mentale impegnati in attività di calcio-terapia. 4 le squadre partecipanti al campionato che ha preso il via il 27 gennaio i fenicoltri di Oristano in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica una ragione in più con mocheria gemellata con il latte dolce di Sassari team Sardegna di Nuoro gemellato con il caglia di calcio assemini calcio. La quarta categoria è stata istituita dalla federazione italiana calcio a seguito di un protocollo di intesa siglato con il ministro dello sport che ha stabilito di inserire atleti con disagio mentale nel sistema calcio. La formazione che sabato si aggiudicherà il primo posto non solo sarà proclamata vincitrice del campionato ma parteciperà di diritto al campionato nazionale di quarta categoria e alla Coppa Italia che si disputerà a giugno a Coverciano storica sede della nazionale italiana. E sempre sabato 6 aprile si svolgerà la giornata dello sport dedicata alle specialità praticate da non vedenti e ipovedenti organizzata dall'unione italiana ciechi oristanese e regionale. Vediamo. Sabato 6 aprile presso il palazzetto dello sport dell'istituto tecnico industriale di Oristano a partire dalle 11 e 15 si svolgerà una particolare giornata dello sport dedicata alle specialità praticate dai non vedenti e dagli ipovedenti tra cui lo showdown una disciplina inventata negli anni 70 da un ragazzo cieco di nazionalità canadese Joe Lewis che ha riscosso molto successo nel mondo soprattutto in questi ultimi anni. La manifestazione voluta e organizzata dall'unione italiana ciechi oristanese in collaborazione con quella regionale e con l'associazione Tigers Paralympic Sport di Cagliari si rivolge in modo particolare agli studenti del biennio dell'istituto Otoca di Oristano e ai loro insegnanti e prevede lo svolgimento di una serie di prove sportive con la partecipazione degli stessi allievi dell'istituto. All'evento saranno presenti insieme al preside dell'ITIS professor Franco Frongia e Adaldo Zaru presidente dell'Unione Ciechi di Oristano il presidente del Luigi Sarda Raimondo Piras e la signora Graziana Pala presidentessa della sezione Cagliaritana dell'Unione Con questa iniziativa hanno dichiarato intendiamo fare nostre le parole del manifesto sull'accessibilità dello sport e delle strutture sportive Le attività motorie e sportive adattate rappresentano per i bambini e gli adulti con disabilità visiva l'esaltazione delle loro capacità e di ciò che sanno fare in un mondo che continuamente ricorda loro ciò che manca e quanto non sono in grado di svolgere E con questo è tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete sempre contattarci all'indirizzo mail redazione chiocciola supertvoristano.it o sulla nostra pagina Facebook Buon proseguimento Grazie a tutti